Siamo con Nico Romito non appena ha terminato la premiazione e devo dire che ha fatto un intervento molto toccante. Io avrei fatto come titolo orgoglioso di essere abruzzese per un futuro più genuino. Sì, è un premio che sentivo molto, ho sentito molto, è un premio di squadra, è un premio di perseveranza. Sono vent'anni di attività proprio quest'anno ricevere questo premio dall'Abruzzo, dalle istituzioni ma anche da tutto il popolo. È una grande soddisfazione per me, per la mia squadra e per le persone che in questi anni hanno contribuito al nostro successo. Sì, infatti li abbiamo visti commosso. Ci è sembrato che fosse commosso, abituato come ad altri palcoscenici, però essere premiati nella propria regione, nella propria provincia, con il sindaco e il presidente della propria città è una cosa che resta nel cuore. Sì, è una cosa che resta nel cuore, ma infatti ho premesso prima di iniziare il discorso che gli eventi palcoscenici, congressi, ne giro molto a livello internazionale, però oggi qui l'ho sentito veramente. Quando ho iniziato a parlare ero molto emozionato, ma un'emozione che veniva da dentro perché un premio nella propria regione ti fa ripercorrere quando lo racconti i vent'anni, quanti sacrifici, quante scelte abbiamo dovuto fare, quante difficoltà anche imprenditoriale e economico abbiamo sopportato nel rimanere nell'Abruzzo. Come dicevo oggi, la scelta più importante per me è stata quella di rimanere in Abruzzo. Oggi sono cittadino del mondo, ho tanti ristoranti per il mondo, giro il mondo, ma con la consapevolezza che vivo in Abruzzo, lavoro in Abruzzo, il mio quartier generale è in Abruzzo e questa cosa è meravigliosa.